Preghiera della sera Padre Santo e Misericordioso, abbi pietà questa sera di coloro che hanno vissuto secondo i criteri dello spirito del mondo, disprezzando, perché ricchi i poveri, sempre più numerosi. Abbi pietà per coloro che sono schiavi di ogni sorta di vizi, che distruggono la dignità dell'uomo. Abbi pietà per coloro che hanno affari ben avviati, che hanno buona reputazione e dicono male degli altri, fomentando il male nel loro cuore. Amen.